Per lo spazio, mangia e bevi la nuova realtà, ristorante Alborgo. E dunque amici di Night and Day, io sono in compagnia di un volto a voi già noto, Rocco, ben ritrovato. Eh, com'è andata l'estate? Bene, a te? Mi aspettavo questa domanda, no, è andata bene. Abbiamo una nuova realtà, questo ristorante Alborgo. No, infatti non volevo confondere l'idea, il Pantare esiste e ci sarà sempre. E in più abbiamo aggiunto un'altra, spero una chicca, era la nostra intenzione, speriamo di riuscirci. Abbiamo creato un ristorantino, sono 30 posti a sedere che va su prenotazione, dove proponiamo dei piatti, diciamo, alternativi. Nel Alborgo proponiamo tre portate come antipasti, primi e secondi. Teniamo presente che ora abbiamo questo menù che ha, diciamo, più o meno 10 giorni. Ogni 10 giorni in più, durante la serata, proponiamo anche qualche piatto che lo chef decide di proporre. Ci teniamo a precisare che comunque la nostra cantina è sempre la stessa. Quanti vini siamo arrivati? Anzi, sta aumentando, siamo a 338 etichette e penso che arriveremo sempre di più perché stiamo scoprendo delle ottime etichette e quindi vogliamo proporre ai nostri amici. Abbiamo dei dolci, i dolci sono fatti dal nostro chef e abbiamo proposto quattro tipi di dolci. Vini dolci artigianali? Artigianali fatti in casa, cioè fatti dal nostro chef. Una volta che si è servito il pasto diamo anche dei dolcini, che sono delle cioccolatine fatte su varie rigure, che è un fine pasto per addolcire, diciamo, il palato dei nostri amici. Il giorno di chiusura è il martedì. www.ristorantealborgo.com oppure infochiocciolaristorantealborgo.it dove potete anche prenotare. Anzi, ripeto, qui va quasi esclusivamente su prenotazione perché ci sono 30 posti a discutere. Ci sono 30 posti a sedere e noi non vogliamo fare le corse, vogliamo dedicarci a queste 30 persone dall'antipasto, dal pre-desserv alla fine pasto. E come ti dice provare? Per credere. Per credere. Per credere.